Ci troviamo a Verona in un cantiere di ristrutturazione di questa unità abitativa. Lá in fondo, come puoi vedere, ci sono le maciarie. Infatti abbiamo demolito i massetti per impianti e il massetto per il pavimento. Tutta quest'area qui sarà la zona notte, dove là in fondo, dove c'è quella finestra, sarà trasformata in porta-finestra. Qui faremo il bagno con la doccia, mentre qui, alle mie spalle, ci sarà la seconda camera, dove si potrà accedere all'esterno da questa porta-finestra. Lá in fondo c'è il fiume Adige con la sua vista. In questa prima fase di lavori abbiamo appunto demolito per poter poi far posto all'isolamento termico, che servirà per mantenere il suolo contro terra e gli ambienti qui sotto a una temperatura gradevole. Sopra invece abbiamo la zona giorno, con il soggiorno, la cucina e il bagno. Questo è lo stato dei lavori al momento. Nei prossimi giorni ti farò vedere come evolverà la situazione, dove verrà qui completamente pulito questa parte dalle maciarie, dove inizieremo a posizionare l'isolamento e a capire come fare le tracce delle nuove stanze. Ciao!